piccola che è arrivata e ora passando è una cosa stupefacente sicuramente un motore di 1100 riusciva a competere con un'auto ben qui in contatto, quella degli italiani perché è la macchina che in pratica ha motorizzato l'Italia buona giornata c'è la proposta di coalizione per vederla nel 2011 che con grande determinazione ha superato i migliori e anche i più grandi dei migliori e quindi vi auguriamo una bellissima gara oggi e di godersi le nostre colline non solo come la Sicilia ma siamo altrettanto determinati Giordano quindi auguri a Giordano, Stozzania e a tutta la famiglia Mozzi buona gara il navigatore del signor Piardi è una signora che non si presenta ma che per noi, proviamo il cronometro perché non si presenta ma vince vince, vince, vince sempre e secondo me anche quest'anno con Piardi alla guida a dare il filo da torcere buona gara e per l'epoca del 1937 si considerano sempre compiati l'imposto d'onore nella classifica siamo certi che sapranno sicurati come sono male donne volanti a cambiare un'auto con l'altra sono dello stesso colore e nessuno se ne accorge quasi nessuno dicono che è molto da meccanico ma noi non ci crediamo e auguriamo una felice gara questo numero 23 abbiamo ancora un alto portacolo Grazie a tutti. Ora abbiamo, udite udite, con il numero 26, un equipaggio di Castiglione, un amico, Pondioni Giorgio, alla ricerca di una gara da vivere sul filo dell'anno. Grazie. 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 Grazie.